Grazie Ma perché? Ma per cui? Cioè 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 Dovevi dire perché Avete Ma che cazzo stai facendo? Che cazzo Avete rotto il cazzo? Che cazzo è il mostrino Ma questi cazzo Perché giocate? Ma che gioco state facendo? Perché? Un altro Un altro Un altro Un altro Oh 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 La ragazza è la ragazza che prima parlava.